Questo è il bello di questo periodo, non è il tempo appunto, è quello che avevo detto prima, non bisogna pensare né a vittoria né a sconfitta, ad affrontare squadra dopo squadra. Io sostengo che la partita contro il Napoli sia stata una buonissima partita. Certo, hanno trovato due gol, ma se uno non gli lascia neanche due occasioni a una squadra come il Napoli, però stiamo vicini perché i ragazzi hanno fatto veramente una buona prestazione, convinte, hanno giocato bene e dobbiamo andare. Adesso andiamo ad affrontare un'altra squadra che sta in gran forma, una squadra aggressiva che non ti fa respirare, per cui dobbiamo essere molto pratici, molto rapidi. Io considero il Verona la sorpresa dell'anno scorso, è una grossa rivelazione quest'anno, Iuri sta facendo veramente un gran lavoro, complimenti. È una squadra difficile da affrontare perché gioca un po' come l'Atalanta, uomo su uomo, a tutto campo, non ti fa respirare, per cui i ragazzi sono stati avvisati, abbiamo fatto vedere filmati e tutti, per cui dobbiamo giocare veramente a mille all'ora mentalmente, soprattutto mentalmente. La squadra sta bene, sta in un buon momento di condizione fisica, a me sembra di fare un po' il raffronto con l'anno scorso, dove la squadra giocava, lottava, poi al primo sussulto si prendeva gol. Poi dopo, a non mollare, ad essere determinati, resilienti, non lasciarsi trasportare dall'abbandono, dallo sconforto, la squadra alla fine si è salvata. Ma se noi andiamo adesso a vedere a mente fredda quello che è successo durante il campionato, vedrete che le partite sono state più o meno le stesse, perché le palle gol le abbiamo lasciate anche quando abbiamo vinto, soltanto che gli avversari non ci hanno fatto gol. Io credo che noi dobbiamo continuare ad insistere su quello che stiamo facendo, perché l'abbiamo fatto benissimo l'anno scorso, l'abbiamo fatto benino quest'anno, noi ci stiamo ritrovando e sono convinto che ne usciremo fuori. Adesso vediamo un attimo, durante il meeting ho parlato anche con Candreva, non l'ho convocato e adesso vediamo un po' le scelte, le farò come sempre la sera prima, per cui stasera tirerò le somme e vedrò come mettere la squadra in campo. Sì, in pratica stiamo ripetendo, ricalcando il lockdown, la preparazione, perché chi ha giocato naturalmente ha fatto scarico ieri e oggi un pochino di più, chi invece non ha giocato ha lavorato ieri e oggi un pochino di meno, in modo da mantenere più o meno tutti sulla stessa falsariga. Certo, chi gioca di meno gli manca il ritmo partita, ma questo è normale, però la squadra si allena bene, con grande entusiasmo, con grande volontà. Sicuramente giocando ogni tre giorni qualche rotazione ci sta, dobbiamo fare delle rotazioni mirate per mantenere sempre viva e forte il gruppo, il gruppo squadra, che è la cosa più importante per me.